Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Joachim Gauck hanno partecipato al Teatro Reggio di Torino all'Italian-German High Level Dialogue, il tavolo di dialogo italo-tedesco inaugurato nel dicembre 2014. L'incontro intende rafforzare i rapporti già esistenti tra le due nazioni, sulla base della condivisione di valori storico-culturali ed interessi economici, ed è destinato a diventare un appuntamento stabile dell'agenda delle due potenze industriali europee.